Pronto? Sono Bianca Merusi. Ho scoperto chi ha ucciso il mio fidanzato. Sì, certo. Io. Un momento, non attacchi. Ho sentito un rumore in un'altra stanza. Vado a vedere. 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 No, non è solo un sospetto. Ho trovato un biglietto che è una prova decisiva. Ma desidero che sia lei consegnarlo alla polizia. Ma sì, sì, voglio che l'assassino sia preso. Ma ho dei motivi gravi per starne fuori. va bene. Va bene. Le spiegherò tutto a voce. D'accordo. Ci vediamo tra poco. Vado a vedere. Vado a vedere. Vado a vedere. Vado a vedere.